E' stato nominato il nuovo presidente del consiglio comunale di Torre del Greco. Nella seduta di ieri Gaetano Fruglio, della lista Civole Coraggio, è stato eletto con 13 voti favorevoli e si insedia dunque al posto di Antonio Spirto. Quest'ultimo aveva preso temporaneamente il posto di Felice Gaglione in seguito alle sue dimissioni lo scorso novembre. Nel corso del lungo consiglio comunale sono stati discussi 45 punti all'ordine del giorno, tra cui anche il reintegro del consigliere Ciro Piccirillo della lista La Svolta, allontanato dall'aula consigliare in quanto coinvolto nell'inchiesta sul voto di scambio durante le ultime elezioni amministrativi a Torre del Greco. Rassegna quindi le proprie dimissioni la consigliere Maria Orlando, subentrata al posto di Piccirillo dopo la disposizione del prefetto, che con una lunga lettera si è congedata dai propri colleghi. Durante il mio percorso sono rimasta fedele ai miei valori e al mio pensiero, ai quali non ho mai rinunciato, ma anche alla legge e alla verità e alla realtà dei fatti, evitando facili semplificazioni ed illusioni. Questo è uno stralcio del discorso pronunciato nel corso della seduta. Spero di essere riuscita ad arricchire con le mie proposte, le mie battaglie e le mie convinzioni, espresse in modi diversi, tutti i cittadini ma anche i miei avversari politici, ha proseguito la consigliera con delega alla protezione civile. Proprio questa responsabilità l'ha vista impegnata in prima persona nel centro operativo comunale, al fianco del sindaco Giovanni Palomba, per fronteggiare l'emergenza coronavirus che ha drammaticamente coinvolto la città di Torre del Greco. Intanto, in seguito alle elezioni annunciate di Fruglio come presidente dell'Assise, potrebbero venire confermate anche le indiscrezioni in merito al nuovo assetto della giunta comunale. Resterebbero gli assessori Ciavolino, Refuto, Granata, Arbonio e Pensati, fuori Ventimiglia e Borriello, mentre al loro posto potrebbero entrare Luigi Civelli e Iolanda Mennella. Potrebbe essere poi proprio Luisa Refuto a ricoprire il ruolo di vice sindaco, lasciato vacante da Borriello.